Il Presidente rileva la diversa composizione del collegio. Il Pubblico Ministero che cosa chiede? Il rinvio. Osserva, chiediamo rinvio, differimento ad altre udienze. La difesa si associa, ovviamente. Rinviamo al 3 dicembre. Allora, una corsa. Facciamolo venire. Lo invitiamo. Dov'è? Il presente qui. Quindi dovrà tornare il 3 dicembre, prossimo 21, ore 15. E allora, quindi, diciamo questa verbale, che la Corte, rilevata la diversa composizione del collegio, rinvia la trattazione del processo all'udienza del 3 dicembre, prossimo 21, ore 15, invitando le parti presenti a comparire senza ulteriori avviso. Diamo atto pure che presenti il test Giuliano Qualtrone, che viene invitato appunto a comparire alla predetta udienza. Chiedo scusa, signor Presidente, un attimino, attimo, ora c'è l'avventudine di dire attimino, che non è corretto. Per quella riserva. E la riserva? Sì, dico, se la Corte ritiene che può scioglierla fuori udienza, per avere poi il tempo tecnico per citare ove mai la Corte dovesse accedere alle richieste nostre della... Beh, ora resta in completamente diversa composizione. Sì, ma questo lo so, questo è scolastico, sarebbe grave che non sapessi queste cose. E veramente, appunto. E allora, quindi, per ora rinviamo a quella. Va bene, va bene. Prego. Grazie.